Bene, il rapporto con il servizio pubblico per me è una cosa che dura ormai da tutta una vita perché mio papà è stato uno dei primi a lavorare per la televisione, sai, quindi nel 59 quando gli studi erano ancora a Paradiso. Lui veniva già dalla radio, è arrivato come tecnico del suono ed è rimasto fino alla pensione. Quindi c'è sempre stato un legame con quella che era la RTSI e oggi è la RSI. Negli anni ho abitato anche oltre Gottardo e questa possibilità di avere la nostra televisione oltre Alpi che ci informava su quanto capitava e quanto avveniva nei nostri bel Ticino sicuramente mi ha dato sempre un legame molto stretto. Oggi sono direttore della Ticino Wine, sono cambiati tutti i parametri della comunicazione abbiamo l'internet, tutto va molto più veloce ma sicuramente un servizio pubblico vicino al territorio lo sto apprezzando tantissimo perché lo sento vicino a tutto quello che stiamo facendo. Grazie. 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 Grazie.